e vanno colpito ormai Vai subito! No, ma hai detto, non l'ha colpito! Alleluia! Alleluia, l'ha colpito! Alleluia, l'ha colpito, 100 punti, facciamo 100 punti, sono disposta a... Li farò, sti 100 punti... Maledizione! Vabbè, finisce lo special di Harry Potter e l'Ordine della Felice! Bene, inizia un altro livello di Harry Potter e l'Ordine della Felice! Alleluia! Alleluia! A caccia degli ingredienti della pozione! Mi sa che adesso dobbiamo andare da lui! Aspetta! Non abbiamo ancora trovato tutti quanti! Controlla la mappa! Gli altri saranno lì! No! Ora guardiamo la lista delle SD! Vabbè! Intanto ci vado! Corriere! Corriere! Bene! Parola d'ordine! Scoiattolo! Scurriere! Grazie passaggio! Sì, giusto! No! È alla sede di che cosa?! Non è… Ma! No… È alla sede di che cosa? È alla sede di che cosa? 20 che cavolata ma dove fai subito corri quanti passaggi segreti pensi ci sia ma non ho sentito che cosa ma che tragitto lungo ok amico vai speriamo che adesso che è vicino ah si stiamo vicino si si ponte coperto c'è ci metto una vita anche se corro ok er dovrebbe er dovrebbe andare a una maratona con tutte queste corse come farà io troverei quelle cose le due piante di mola hanno il campo nero e dei fiori bianchi che crescono nel terreno a d'accordo dai ma dov'è faccio faccio mmm ovvero ok giusto d'accordo e vai che cosa c'è 5 punti per il prossimo potenziamento hai scoperto un parco nascosto di Fred e George oh no, 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 via, via, via non ci sono mai entrato, genio genio di una mirtilla malcontenta che fra poco ti faccio vedere perché sei male ti do un'altra ragione per essere malcontenta sono certa che la professore sta stretta ha detto che qui ci sono delle piante di mola via, 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 via non le trovo e quella che cosa c'è su, chiamelo allora, dove potrebbe essere il problema è che ho poca non mi ricordo adesso cerchiamo il problema è che mi sono dimenticato dove andare non c'è non c'è non c'è ma tu è ma tu l'izia vuole 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 aspetta era lì ma va a quel paese portiamo questa roba a Ernie così potrà preparare tutto per pozioni hai detto ecco dov'era abbiamo tutto 5 piante di mola e della radice di mandragona splendido lasciami tutto e le preparerò in tempo per la lezione ottimo va bene non ci frega cosa? aspetta allora d'accordo andiamo da questo alleluia 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 e dimostrare quanto sono orbo perché non sono riuscito a vederlo fino ad ora alleluia ma fa niente sono riuscito ericoo cori 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 ma anche no ehi ragazzi non si barra toglietemi ehi quinto piano ma quale no grazie al gps troviamo tutto in un attimo studenti no ho molte altre cose da mostrarti nella nostra stanza non rompere non ti voglio perché non perché non c'è un fantasma stupa non c'è un fantasma stupratore che la stupra così non mi rompe le palle stupra stupra e stupra 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 Grazie a tutti.